ecco mi amiche sono tornato anche con la primavera 2018 con Elena Russo eccola qui la vediamo con questo abito favoloso vedete con queste misure asimmetriche dai lati monospalla da una parte dall'altra manica lunga e collo alto un abito veramente fantastico e ragazzi mi raccomando la domenica su canale 5 all'ora 21 e 15 la trovate con la fiction furore 2 ciao